La registrazione di un account su dentsplysirona.com ti dà accesso all'acquisto sicuro di prodotti e corsi di formazione clinica. Per creare un account basta cliccare su Registrati nell'angolo in alto a destra della home page. Completa il modulo e crea una password per l'account. Se in precedenza avevi un account su dentsply.com, i tuoi dati e le preferenze dell'account sono stati trasferiti automaticamente a questo sito nuovo e migliorato, quindi non devi registrarti di nuovo. Quando viene creato un nuovo account, viene inviata un'email di attivazione. Se non ricevi la tua email entro un'ora, controlla la tua cartella di posta indesiderata o spam e aggiungi il nostro indirizzo email ai tuoi contatti per assicurarti di ricevere le nostre email future relative agli acquisti dei prodotti o alle iscrizioni ai corsi. All'interno dell'email, clicca sul link. Verrà visualizzata la conferma che il tuo account è stato attivato. Adesso puoi accedere al tuo account e iscriverti a corsi di formazione e acquistare la maggior parte dei nostri prodotti. Considera che l'accesso ad alcuni prodotti a volte può richiedere fino a 24 ore dopo l'attivazione dell'account. Una volta effettuato l'accesso, puoi anche visualizzare e gestire il tuo profilo all'interno della sezione Il mio profilo. Oltre a modificare i tuoi dati personali, compresa la password, puoi modificare le dirizzi di fatturazione e spedizione. Quando hai finito, salva semplicemente le tue modifiche. A seconda delle dimensioni e delle esigenze del tuo studio, puoi aggiungere account aggiuntivi. All'interno della funzione Gestisci profili, puoi specificare diversi indirizzi di spedizione e fatturazione e utenti autorizzati per ogni account. Aggiungi o elimina gli utenti dell'account tramite la funzione Gestisci l'accesso degli utenti. Invita un nuovo utente o elimina membro, a seconda della modifica desiderata. Puoi anche assegnare un ruolo, definendo ciò che gli utenti possono vedere e fare all'interno del tuo account. Una volta impostato il tuo account e inserito il primo ordine di prodotti, puoi utilizzare la funzione Ordine veloce e cercare per codice prodotto, andare al tuo elenco di prodotti preferiti o ripetere un ordine precedente. La possibilità di personalizzare il tuo account su dentsplysirona.com e apportare modifiche in base alla crescita del tuo studio, semplifica la tua esperienza di acquisto online e ti aiuta a fornire cure odontoiatriche migliori, più sicure e più veloci.